Un vero e proprio successo la prima edizione di un evento, il primo città di Nardò, che ha saputo riempire la bellissima piazza Salandra di tantissimi neretini, ma non solo. Tra i premi consegnati, quello all'imprenditore Luciano Barbetta, alla squadra del Nardò Basket Femminile e all'avvocato Salvatore Donadei. Un premio importante del quale ringrazio ovviamente l'amministrazione con il sindaco B.P. Meloni in testa, il consigliere delegato Lele Manieri ed è un premio che sicuramente mi inorgoglisce e che dedico all'intera avvocatura neritina e salentina in generale. Me lo tengo stretto perché rappresenta anche un momento di grande sensibilità da parte della comunità neritina nei confronti di un suo figlio che ha un cuore neritino e che morirà con il cuore neritino. Una grande edizione del città premio di Nardò, ci tengo a ringraziare tutta l'amministrazione comunale, in modo particolare il presidente del consiglio Antonio Tondo, tante eccellenze premiate e tanta la disponibilità di grandi artisti nella splendida cornice di piazza Salandra. Il momento, il modo giusto per premiare quelle che sono le eccellenze neritine nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo del lavoro, delle professioni, nel mondo dello sport. Un grazie al consigliere Manieri per aver fortemente voluto questo momento, un grazie al sindaco che ha subito sposato l'iniziativa. È sicuramente una prima delle tante edizioni che si andrà poi a fare nei prossimi anni.